Come nasce Simone Pepe Golfista? Nasce con una passione che aveva Aquilani, che giocava a Liverpool, per cui loro giocavano tanto a golf. Mi ha trasmesso questa passione, abbiamo cominciato a giocare a golf e adesso vorremmo giocare un pochino meglio e cominciare a giocare con un po' più di continuità, visto che ho smesso di giocare a calcio. Sempre per lo stesso discorso, quel colore verde del green è simile al colore verde del campo di calcio, no? Perché molti calciatori giocano. Sì, è una cosa molto bella, ma forse io penso che l'attrazione principale per noi calciatori è che è praticamente l'opposto dello sport che si è fatto per tanti anni, perché il calcio è un gioco di giochi con 11 compagni, con 10 compagni, per cui qui giochi da solo, ti confronti col campo, se una domenica non riesci a dare il meglio nel campo da calcio magari c'è sempre i compagni che ti aiutano, invece qui non ti aiuta nessuno, sei tu contro il campo, per cui è una cosa affascinante affascinante e l'altra cosa è che siamo abituati a giocare con tante persone, magari a tanto tifo e qui c'è un silenzio surreale per noi. Oggi Simone Pepe è handicap? 25 25, quindi sei destinato ovviamente a scendere a migliorare perché adesso hai un po' di tempo in più a disposizione, ma forse neanche tanto, forse dovrebbe, no? In teoria dovrei avere un po' di tempo in più, però adesso è un momento proprio full perché col fatto che comunque c'è il periodo di mercato che si fa la squadra, per cui si comincia a girare tanto insieme al presidente, al direttore per cercare i giocatori e per fare un po' le trattative, per cui di tempo non ce n'è tantissimo, quando c'è tempo volentieri vengo perché mi piace e mi rilasso. Ti sei trovato subito a tuo agio qui al Milianico Golf Club, ma sei anche diventato davvero amico di tutti quanti, sicuramente per il tuo carattere, ma anche perché qui evidentemente sono abituati a ospitare tanti calciatori, ex calciatori, allenatori, c'è Zeman e tanti altri. Sì, sì, veniamo spesso col mister, anche col secondo di Zeman e con Cangelosi, ci divertiamo, qui ho trovato una grande famiglia, mi sono trovato veramente bene e non è una cosa tanto per dire, ma veramente con il direttore, col presidente, con i maestri, veramente un posto veramente familiare dove ti senti a casa. Ti sei trovato bene, sì, sicuramente qui a Milianico e in generale con l'Abruzzo, no? Perché la tua vita professionale è destinata a restare qui nella nostra regione. Sì, diciamo che ho cominciato in Abruzzo col Teramo tanti anni fa, io ho finito con il Pescara e adesso c'è un'avventura che continua con il Pescara, per cui sono molto legato all'Abruzzo, sto bene e spero di restarci ancora tanto tempo.